Pocer del Molfetta, l'esordio del campionato d'eccellenza Gironeà, al Paolo Poli i Biancorossi di Domenico vincono 4-0 contro il Corato che paga l'inferiorità numerica alla mezz'ora del primo tempo sull'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa i neroverdi di Maurelli cedono il passo al Molfetta ma soprattutto all'uomo copertina della domenica Peppe Lopez e lui a siglare le 4 reti sono già 5 in due partite per l'attaccante contando il gol di domenica scorsa in Coppa Italia di Lettanti. Il tabellino del primo tempo cambia al 24esimo Lopez approfinta di un pasticcio della difesa coratina e sigla l'1-0 al 30esimo Corato in 10 uomini per l'espulsione di Cianci gomitata ai danni di stranieri l'arbitro estrae il cartellino rosso. Nella ripresa il Molfetta dilaga e il sedicesimo quando Lopez è implacabile in aria rete del raddoppio l'attaccante bianco rosso Caletris alla mezz'ora infine al 34esimo chiude i giochi con un pallonetto preciso ad incorniciare. Una serata che non dimenticherà facilmente 4-0 e triplice fischio. Ottimo inizio per il Molfetta che domenica sarà impegnato con il Borgo Rosso nel derby cittadino Corato che proverà a rialzare la testa in casa contro Foggia in Cedit.